Pensando al progetto Park Out mi viene in mente un ponte, un ponte tra i giovani e la cittadinanza. Sicuramente questo è un progetto che ha dato la possibilità proprio di creare sia movimento, quindi far smuovere anche i ragazzi, ma anche valorizzare una zona cittadina che era ormai in disuso. Quindi Park Out per me è questo legame qua, tra giovani e Mondovì. Abbiamo visto quanto i giovani e i ragazzi siano interessati, soprattutto perché nella formazione professionale manca il movimento, manca l'aspetto dell'attività motoria, per cui per noi sarebbe bellissimo poter continuare anche dare un futuro a questo progetto, creando delle possibilità per i giovani per continuare, quindi sicuramente vediamo un futuro. Sicuramente una cosa nuova, quindi alla parola calisthenics che cos'è? Oddio! Però nel vedere che era uno sport nuovo, in cui non era richiesto nulla di particolare, quindi se sono fatto in un modo o in un altro è uguale, lo posso provare. Per giovani come i nostri, che appunto magari soffrono delle diversità particolari, il fatto di poter provare un'attività nuova e mai vista è stato interessante, quindi gli ha smossi proprio questa novità. Io sceglierei proprio loro, i nostri ragazzi che fanno fatica a riprendere proprio un'attività fisica dopo il periodo del lockdown e tutti i periodi del post-covid, quindi quelli che in aula vedo e mi dichiarano io ho smesso di far calcio, ho smesso di far questo, di far quest'altro, quindi porterei loro, farei un pulmino, li caricerei tutti e li lascerei qua all'aperto. Grazie a tutti! Grazie a tutti!